Lautaro terzo gol di fila in Champions, si è andato a segno subito nei primi minuti, un po' come era successo a Barcellona, questa è la nota positiva come diceva giustamente Ilaria per quanto riguarda invece la prestazione complessiva della squadra, un ottimo primo tempo, poi nella ripresa è come se fosse scesa in campo un'altra Inter, come mai? Sì, la verità è che nel primo tempo fuimos con due golli di ventaja, con due golli a favor e io credo che nel secondo tempo fuimos un'equipo differente, un'equipo che non fu' intelligente e questo non costò, non costò perché abbiamo perduto un partito che realmente teniamo in nostro lato e abbiamo bisogno di migliorare in questo perché altrimenti sarà molto difficile. È vero questa cosa, siete più stanchi mentalmente o fisicamente in questo periodo? Perché la squadra ha dei blackout, oggi è stato un blackout di 45 minuti, però ogni tanto ha queste cose che si spegne l'attenzione, cala la concentrazione e poi si evidenziano magari errori come è successo anche oggi. Sì, non credo che sia una cosa fisica perché noi insegniamo per essere a la altura, tratiamo di recuperare e la verità è che lo di oggi è un tema di concentrazione, un tema di madura, necessitiamo madura perché, lo volvo a ripetire, lo dice nel partito contro la Barcelona, i piccoli dettagli, le differenze sono le quei che ti facendo perdere o perdere i partiti, quindi abbiamo bisogno di migliorare, di essere attenti, di essere concentrati tutto il partito e che non sia un primo tempo con due golsci al rio e poi che cambia la partita di un momento per l'altro. Lautaro, l'ultima te la faccio io, l'Inter al di là di questa sconfitta rimane comunque padrona del suo destino perché con sei punti si passa il girone. Sì, ora abbiamo bisogno di pensare nel campionato, abbiamo un partito complicato in nostra casa con nostra gente, quindi abbiamo bisogno di raggiungere per non perdere più punti. e poi ovviamente pensare nel campionato, nel partito che abbiamo bisogno di giocare e ovviamente che sì, che corremos di attrazione e abbiamo bisogno di ottenere i sei punti per cercare di aiutare i risultati e passare di fase. Mattias, grande personalità, quello che vi aveva chiesto il mister alla vigilia per affrontare questa partita si è vista tutta, fin dai primi minuti del primo tempo, tanto è vero che siete andati in vantaggio di due gol, poi il blackout nella ripresa, come te lo spiega? È stato un calo fisico o mentale? Beh, sicuramente dopo il buon primo tempo che abbiamo fatto ci aspettavamo altro, il secondo tempo, sapevamo che loro sicuramente cercavano di rivaltare il risultato, penso che ci siamo avvassati un po' troppo, poi non riuscivamo a tenere la palla lo sufficiente per poter ripartire e abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto fatica perché ci hanno fatto girare la palla veloce, non riuscivamo a trovare le misure e ci hanno fatto male. Dopo l'1-2 hanno preso ancora più coraggio e è diventato sempre più difficile perché secondo me ci è mancato un po' palleggiare di più. Riccardo? Sì, ciao Mattias, intanto ben ritornato, insomma oggi era una partita dura anche per te che rientravi da titolare da tanto tempo e chiaramente magari per quanto riguarda la tua prestazione, magari anche dal punto di vista fisico, era naturale che tu potessi avere magari nel secondo tempo un appannamento o comunque un calo, ma io mi riferisco a tutta la squadra, cioè secondo te è mancata la gamba nel secondo tempo nel far ripartire l'azione oppure è l'atteggiamento della squadra che ha assunto anche dopo il gol di Lautaro nel primo tempo, la squadra si è abbassata immediatamente, voi avete fatto circa 8-10 minuti giocando nella metà campo del Borussia, fatto gol da Lautaro anche nel primo tempo siete arretrati, nel secondo tempo subito l'atteggiamento è stato di una squadra davanti alla linea difensiva, chiusa e poi la difficoltà proprio di far ripartire l'azione, quindi un problema dal punto di vista diciamo mentale o proprio fisico, di non avere la gamba per poter andare a offendere? Sì, sì, è stato così, penso che poi una cosa ti porta all'altra, quando ti avvassi così troppo noi siamo una squadra che soffriamo a difendere basso, si è visto e poi quando difende così lontano dalla porta avversaria il campo rimane lungo e ovviamente ti mancano le gambe per ripartire, per quello era importante nel momento di difficoltà cercare di mantenere di più la calma, far girare un po' di più la palla per abbassare i ritmi e così prendere un po' più di forza per arrivare con più uomini, ci sono cose da imparare, ovviamente ci sono momenti che devi rallentare la partita, soprattutto fuori casa quando stai vincendo e niente, c'è ancora da migliorare e continuiamo a lavorare. A questo proposito che cosa vi insegna questa sconfitta Mattias? Eh no, è dura quando perdi una partita così che stai vincendo 2-0 e dobbiamo ripartire dalla delusione, dalla rabbia della sconfitta di oggi perché ancora siamo in corsa, non è ancora finita e dobbiamo continuare a lottare fino all'ultimo. Che ti posso dire? Credo che ancora abbiamo margine per continuare a crescere e niente, dobbiamo andare avanti perché già sabato abbiamo un'altra partita. Grazie Mattias. Prego, ciao. Eccoci qui con Diego Godin. Diego, sono stati 45 minuti di altissimo livello, grande personalità quello che vi aveva chiesto il mister. Ieri alla vigilia poi il blackout, nella ripresa avete subito la rimonta. Che cosa è successo? Si, hicimos un gran primo tempo, fuimos a buscar al Dortmund alto, pudimos presionare in campo rival, salir rapidamente e trovare espacios a la defensa. Hicimos un gran desgaste, jugamos con gran intensità e nel secondo tempo e noi intentamos fare lo stesso, non pudimos. La pelota volviva rapidamente a la zona defensiva e il Dortmund la verdad è che anche migliorò. è parte del gioco di loro, che migliorarono, incontrarono i gol rapidamente nel secondo tempo e non avevamo risposta, non avevamo risposta, né animica né fisica, perché ci costò salire a incontrare espaciosi e a farle daño. Riccardo, puoi fare la domanda in italiano a Diego Godin e poi lui le risponde in spagnolo. Ciao, no, è sempre difficile dare una spiegazione quando si giocano due tempi così diversi, no? Però voglio entrare nel merito dell'azione e del gol, no? Quando su fallo laterale di Candreva, su fallo laterale di Candreva, eravate posizionati per ricevere palla prima a Brozovic e tutti rimessi per far ripartire l'azione, no? Questa è una cosa che provate in allenamento, è una cosa che non è riuscita, è una cosa che non avete gestito male, soprattutto Candreva nel dare la palla a Brozovic o... non lo so, per noi è risultato un errore abbastanza grande, capito? Cioè, un errore individuale abbastanza evidente. Sì, sta chiaro che in partitos con equipos di tanta qualità, los errores se pagano caro, fu un errore, verrà? Che costò un gol, un errore grave, però sì, lo abbiamo parlato, lo entrenamos, de hecho nel primo tempo, esa jugada la hicimos, Antonio se la dà a Brozo e di prima, di primo toque, Brozo la mette adelante e hacía a los delanteros. Nesta jugada decidiu tomar otra decisión, hacer otra cosa e, bueno, non salió bene. A veces, los jugadores tomamos decisiones nel campo, che stiamo per questo, e, a veces, sono accertati e, a veces, nos equivocamos e passano queste cose, soprattutto con equipos di tanta qualità, come sono il Dortmund, come lo fu il Barça in quel momento, e ti lo fanno pagare di questa maniera. Grazie. 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 Grazie.